Sono lieto di accogliere i rappresentanti della Caritas, qui venuti, per dare inizio ufficiale alla campagna Condividiamo il Viaggio. Bel nome della vostra campagna, Condividere il Viaggio, che ho voluto far coincidere con questa udienza. Do il benvenuto ai migranti, richiedenti di asilo e rifugiati che, assieme agli operatori della Caritas italiana e di altre organizzazioni cattoliche, sono segno di una Chiesa che cerca di essere aperta, inclusiva, accogliente. Con il vostro impegno quotidiano, voi ci ricordate che Cristo stesso ci chiede di accogliere i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati con le braccia ben aperte. Quando le braccia sono aperte, sono pronte a un abbraccio sincero, a un abbraccio affettuoso, un abbraccio avvolgente. Un po' come questo colonnato in piazza, che rappresenta la Chiesa Madre, che abbraccia tutti nella condivisione del viaggio comune.